E' stato beccato dai carabinieri mentre rubava materiale ferroso all'interno della sede di smessa dell'ex manifattura dei tabacchi in via Fratelli Philips nella zona industriale di Bari. Per questo motivo un 47enne barese con precedenti specifici per reati contro il patrimonio è stato arrestato con l'accusa di furto. I militari intervenuti in zona sono stati attirati da alcuni rumori sospetti provenienti dal capannone. Una volta entrati per effettuare un controllo hanno quindi sorpreso due uomini che servendosi di una smerigliatrice elettrica alimentata da un gruppo di continuità stavano tagliando e accatastando canalette e portacavi in acciaio, scossaline in lamiera zincata e ringhiere per oltre 400 kg di materiale ferroso. Uno dei due ladri alla vista dei carabinieri è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Il 47enne invece è stato bloccato arrestato e sottoposte domiciliari in attesa di giudizio. I 400 kg di ferro quindi sono stati restituiti al legittimo proprietario. La smerigliatrice e il gruppo elettrogeno sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso indagini volte a identificare e rintracciare il complice in fuga.